Ciao a tutti e bentornati su Sterrato, io sono Luca, io sono Paolo, è bella questa mi piace un sacco, la teniamo sempre, sta cosa, mi gasa subito. Siamo qua, siamo tornati in studio per la presentazione delle nuove The North Face Vectiv Infinite. Prima di tutto, per partire, The North Face è tornata nel trail running. Finalmente, oserei dire, eravamo tutti un po' scettici, sicuramente Paolo. Paolo è scettico sempre, comunque. L'eravamo poi, abbiamo visto che sono state lanciate di prepotenza da Pocappel, che se l'è messa nel tentativo di FKT dell'UTMB, quando è stato? Agosto addirittura? Settembre dell'anno scorso. Settembre, ok. Lui si è messo però le Vectiv, le Flight Vectiv, perché la linea Vectiv è quella con cui entrano a gamba tesa nel mondo del trail, gli amici di The North Face. Linea Vectiv che si differenzia in Flight Vectiv, che è la più reattiva delle tre, poi Vectiv Infinite e poi Vectiv Enduris. Le tre scarpe differiscono in realtà nella composizione, soprattutto, vabbè, in realtà di tutti i materiali, perché a tutti i livelli ci sono delle differenze che portano la Flight Vectiv a essere la più reattiva e più leggera, materiale della Tomaya molto più, tipo simil calzino per capirci al volo e un piatto in fibra di carbonio e in terzo alla più sottile per dare tanta tanta reattività, Vectiv Infinite invece che come vedremo adesso nel dettaglio è una via di mezzo che va bene per davvero qualsiasi tipo di utilizzo nel mondo del trail e poi la Vectiv Enduris che io in realtà volevo anche provare, anche quella, ma purtroppo in store qua non ce l'avevano e poi ho procrastinato e la lasciamo stare. Ora, andiamo carichi con la presentazione di queste Vectiv Infinite che, ultima premessa, secondo me è una scarpa spettacolare, ormai lo diciamo quasi di tutte. Sì, lo diciamo di tutte perché dai... Perché si gasano. Sì, si gasano tutte quante le scarpe. Iniziamo come sempre partendo dalla traction. La trazione di questa Vectiv Infinite non ha niente di esagerato. Quello che mi interessa sottolineare è che ci tiene davvero bene su qualsiasi tipo di sentiero. L'abbiamo, come vedete, purtroppo non ho resistito, sia io che Paolo le abbiamo già provate e abbiamo già anche fatto dei bei lunghi con queste. Profondità, spessore delle tacchette 3,5 mm, quindi non male e soprattutto una buona spaziatura che ci permette di utilizzarle anche in terreni umidi. Quindi, tutto sommato, mi ha convinto la traction. Per quanto riguarda l'intersuola, abbiamo la classica Rocker Foam di The North Face in doppia densità, che quindi ci dà una buona protezione dagli impatti ma anche è una buona reattività. Di per sé la reattività è affidata soprattutto al P-Bex Plate che è questo piatto che vedete in TPU, in realtà è P-Bex, quindi è proprio questo elastomero che appunto nella Vective Infinity, in questo modello, è in P-Bex mentre nella Flight Vective è in fibra di carbonio. Scorre a tutta lunghezza per darci proprio tanta tanta reattività e diciamo che si oppone al nostro tentativo di flessione del piede dandoci una risposta. Quindi di per sé la reattività di questa scarpa è data sia dall'intersuola in questa Foam che comunque è molto valida P-Bex Plate a tutta lunghezza che nella Vective Enduris quindi la scarpa invece più lenta, tra virgolette, non è a tutta lunghezza ma c'è solo nella parte posteriore, se non ricordo male, per dare stabilità e poi anche la forma della scarpa è molto valida il drop è di 6 mm il che ci dà quel buon equilibrio e quella posizione che comunque ti tende a propellere verso l'anteriore e la rende anche una scarpa un po' per tutti Assolutamente sì, è una buona via di mezzo appunto per noi adesso io almeno sto usando scarpe da drop 8 a drop 4 ti dirò che con questa mi trovo davvero molto bene non trovo nessun tipo di problematica a riguardo Per quanto riguarda i materiali anche qua è stata una bella svolta è stata una bella scoperta perché subito, non so te io al primo sguardo, alla prima calzata avevo il grandissimo timore di trovarmi davanti a una scarpa leggerina troppo esatto, che si sarebbe comunque consumata facilmente e invece non so quanti chilometri hai fatto tu però e la mia che comunque è già quasi sui 200 e io dovrei essere un centino quasi sui 200 comunque è ancora perfetta senza nemmeno un graffio è costruita davvero davvero bene e in più c'è da dire che tutto diciamo è dato da Matrix Evo il tessuto di casa francese che è utilizzato in tante scarpe da basket tra l'altro ha degli inserti in Kevlar e è caratterizzato dal fatto che è leggerissimo ma anche super appunto essendoci il Kevlar è super super resistente la prima sensazione che mi ha dato a me alla prima calzata era proprio quella che hai detto tu a me piacciono più le scarpe imbottite anche a livello di Tomaia ovunque mi piace una scarpa comoda anche a livello superiore non solo di intersuola e quindi questa mi aveva un po' lasciato così ho detto ma forse magari dà fastidio non mi dava una bellissima sensazione a livello di asole dei lacci perché mi sembravano comunque molto delicate come asole e invece devo dire che anch'io un centino li ho messi su tutti senza problemi e davvero la scarpa è perfetta non ho nessun tipo di problema anche nella parte posteriore della Tomaia c'è un'imbottitura leggerissima che però devo dire che è valida si sente calza davvero davvero bene calzata tra l'altro secondo me assolutamente true to size quindi andate con la taglia che vestite regolarmente per quanto riguarda sempre restando sui materiali un altro dettaglio importante di cui abbiamo parlato spesso io e Paolo i lacci i lacci che anche questi la prima volta che li ho visti e avevo qualcosa da ridire perché sono veramente come sempre però sono veramente fini e sembra quasi che si spezzino al solo toccarli e avevo paura si slegassero durante la corsa esatto invece esattamente il contrario anche perché hanno delle zigrinature molto marcate che fanno sì che si blocchino proprio contro le asole che sono molto leggere sono molto sottili e quindi è come se entrassero dentro le asole entrassero dentro ai lacci quando noi tiriamo i lacci quindi è veramente valida la sensazione tanto che addirittura la prima volta che le ho utilizzate ho avuto il problema opposto di solito le allaccio sempre tanto perché tanto so che si allargano un po' mentre corri invece queste rimangono belle belle, fisse sì sì, fisse in una maniera assurda e quindi ho dovuto slacciare la scarpa dopo qualche chilometro e addirittura se fai il doppio nodo rischi di non snudarle mai più infatti io non l'ho più fatto dopo la prima volta assolutamente no, ma sembra assurdo sembra una battuta ma non lo è affatto i lacci sono veramente pazzeschi e in più magari rispetto giusto per richiamare in causa anche qualcos'altro i lacci per esempio delle Ierro che mi piacciono molto anche quelli perché non si slacciano molto ma sono molto più rigidi è un altro tipo di laccio ma appunto la sensazione qua è anche più piacevole per il semplice fatto che non ti danno molta pressione sono molto sottili ovviamente bisogna stare attenti secondo me a non farli impirlare come si dice in italiano a non farli girare ecco e a lasciarli belli piatti sulla scarpa così anche perché la linguetta non è molto imbottita quindi quello bisogna sicuramente starci attenti come considerazioni ah beh scusatemi in termini di supporto anche quello va detto il supporto è molto valido per il semplice fatto che la scarpa è costruita bene non ha difetti particolari molto molto marcati ha una base d'appoggio bella ampia è molto stabile ha un piatto appunto a tutta lunghezza in pibex che dà rigidità ma ovviamente non troppo e il collegamento tra la tomaia e l'intersuola è molto valido quindi noi sentiamo proprio una connessione che ci dà una sensazione positiva di supporto a tutto tondo da non dimenticare anche i rinforzi che ci sono nella parte anteriore e anche ovunque nelle asole li vediamo i supporti in materiale plastico che danno sia della rigidità in più dove serve ma più che altro ci proteggono dall'usura nel tempo come considerazioni finali su queste The North Face Vective Infinite per me sono assolutamente promosse anche per me poi sono una scarpa leggerissima e perfetta per la bella stagione in cui andiamo incontro assolutamente sì davvero davvero molto bene anche qui mi sento sempre in colpa perché ogni volta che arriva ho una scarpa nuova non voglio più usare quelle vecchie adesso continuo a mettere questa ma come ha detto ogni volta mi viene da salutare Roberto Martini ma ha lanciato un altro video sulle scarpe e ha detto di averne sempre tre in rotazione e stiamo cercando anche noi di farlo le prossime che abbiamo tra l'altro da recensire se non sbaglio ci arrivano delle altre topo Ultra Venture Pro vediamo per me hanno sempre il problema di essere anti estetiche in maniera abbastanza bruttine assurde però ma anche queste non è che stanno scherzando per via di bellezza a me piacciono esteticamente a me piacciono oddio secondo me ci stanno alla grande allora io ho fatto una story su Instagram dove chiedevo tra le tre qual era la più bella e tutti hanno votato tantissimi hanno votato la Vective Enduris per quello che la volevo prendere pur essendo la più lenta delle tre però secondo me comunque The North Face ha lavorato molto bene su questa linea ha lavorato nel suo tempo ha tirato fuori una scarpa valida contro quella precedente che era imbarazzante due anni fa sì due anni fa sì ma era proprio un tentativo tra l'altro a questa scarpa a questa linea ha lavorato anche un ragazzo italiano non mi ricordo il nome scusate mi manca però mi ricordo che è anche venuto in negozio a Verona a fare un un minimo di spiegazione del design di questa di questa linea secondo me quindi alla fine assolutamente promosse unico problema che ho avuto qua non te l'ho neanche detto la seconda corsa che ho fatto ho messo dei calzini un po' più leggeri del solito e nella parte interna ho sentito tantissimo questa porzione del piatto in P-backs e mi ha dato molto fastidio quasi da vescica quindi ho dovuto utilizzare comunque un calzino più pesante dalla volta dopo e senza con il calzino giusto insomma non ci sono problemi però eccoci tengo a dirla questa cosa che ho sperimentato io per il tipo di calzata probabilmente chi soffre di vesciche deve starci molto attento perché questo effetto calzino non aiuta su proteggere dagli sfregamenti assolutamente sì il calzino viene spesso sottovalutato ma è stra stra importante direi che ci siamo detti tutto su questa The North Face Vective Infinite se avete dei feedback da lasciarci se l'avete già prese già utilizzate fateci sapere e anche a livello estetico che io ci tengo sempre a sapere un po' cosa ne pensa il pubblico del mondo del trail running come sempre noi ci vediamo nel prossimo trail grazie mille per il supporto e alla prossima grazie mille